Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Oggi celebriamo la ventisettesima domenica del tempo ordinario, l'anno liturgico C. Meditiamo il Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 5 a 10. In quel tempo gli Apostoli dissero a Gesù, «Au, accresci in noi la fede!» Il Signore rispose, «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo ad arare o appascolare il grege, li dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola?» «Non li direi piuttosto? Prepara da mangiare. Stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?» Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare». Parola del Signore. Siamo i servi inutili, ma questa inutilità vuol dire che non avvaliamo nulla agli occhi del Signore. Allora, questo nostro testo ti presenta due, diciamo, entità. La prima entità riguarda proprio gli Apostoli. Gesù si rivolge agli Apostoli e essi chiedono a Gesù di crescere la loro fede. La seconda unità si parla di una forma di parabola e che si farà capire nella conclusione che noi siamo i servi inutili. nella prima unità qui si trova, o diciamo, il tema centrale della meditazione di oggi è proprio la fede. Dunque, di questa fede parla la prima unità. Gli Apostoli chiesero a Gesù di aumentare in loro la fede. Gesù non dà delle risposte per dire, ecco, fai questo, fai quell'altro, poi fai questo per aumentare la tua fede. Gesù risponde dicendo soltanto, ecco, se avreste una fede come un granello di senape. Per dire che la fede non si quantifica, ma ci vuole la qualità, una fede autentica. Che cosa intendiamo con una fede autentica? La fede autentica è quella fede radicata in Gesù Cristo. Una fede che non potrebbe essere disturbata da nessuna cosa. colui che conta il Signore, che è lui che si affida nel Signore, colui che cammina nel Signore, con il Signore, colui che ha la consapevolezza che senza il Signore la vita sua non vale nulla, allora questa è la fede autentica. E questa autenticità si manifesta anche nelle opere concrete, come lo dira San Giacomo nella sua lettera, capitolo 2, versetti da 14 a 18. La fede senza le opere è morta. E' questa fede autentica che salva l'essere umano, come ha detto il profeta Abba Cucca nella prima lettura di oggi, che il giusto vivrà per la fede, solo la fede che ci può salvare. E lo dira anche San Paolo nella Lettera ai Romani, nel capitolo 1, versetto 17. L'uomo si salverà dalla sua fede. Ecco, carissimi, siamo invitati ad avere questa fede autentica, una fede radicata in Cristo e che si manifesta con le opere. Nella seconda unità, Gesù ha preso una forma di parabola di un servo che viene dal campo. Il padrone non è che gli dirà subito, ecco, viene a mangiare. No, dirà, va a lavorare, va a compiere, a cucinare e poi mangerai. E poi, per capire questa parabola, c'è da leggere la conclusione. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo i servi inutili. Come ho detto prima, l'inutilità non è che non valiamo nulla agli occhi del Signore, ma qui si vede che, ecco, noi non dobbiamo avere la pretesa di vincere qualcosa o di darti vana gloria grazie a noi che abbiamo fatto quello. No, tutto ciò che compiamo è l'opera del Signore. Tutta la vittoria, tra virgolette, che potremmo sentire compiendo le nostre opere è proprio l'opera del Signore. Noi siamo i servi, non possiamo oltrepassare la potenza, la capacità di Dio. Noi siamo i servi. Noi ti muoviamo in base a quello che il Signore ti chiede di compiere. Come lo dice Gesù stesso, io compio le opere del Padre mio. Dunque, tutto quello che si può fare è grazie alla volontà del Padre. Dunque, non possiamo vantarci, non possiamo, diciamo, gridare che vittoria, nulla. Cioè, niente vuole dire. Come ti capita spesso, no? Di dire, ok, di vantarci. Grazie a me, grazie a me, grazie a me. Si può dire come congratulazione, come informazione, ma non per vantarsi. Non per vantarsi. Grazie a me, grazie a me. Noi siamo solo i servi inutili. Nel senso che abbiamo solo fatto quello che Dio ci ha chiesto di fare. E perciò, nella seconda lettura, San Paolo a Timote dice, ecco, Noi non abbiamo ricevuto lo spirito di civilezza, ma di forza per testimoniare. Non possiamo testimoniare se non abbiamo la fede autentica. Non possiamo testimoniare. E dunque, di questa domenica siamo invitati a entrare in questa domanda dell'Apostolo, di Signore, aumenta in noi la fede, cresce in noi la fede, oppure aiutaci ad avere una fede autentica. Con questa fede potremo compiere le opere più grandi di quelle che Gesù ha compiuto. Vi auguro una buona e santa domenica. Che Dio vi benedica sempre.